... ... ... Non ho trovato più. Andiamo a cominciare, a te che è? Sì, a finire. Dov'è il ricordo? E di là l'ora? Facci di rio? Tu dovresti aver cognato. Io mi lascio la mia 5, quindi. Vabbè, no, c'è uno. Guardate, puoi salvare? Oia, fa partite quando ce ne stanno. Cazzo è spazio. Si trocessi a pebbraio! Rendetevi conto che... Che sta facendo lei? Mi spiega? Ma tu l'ha aterrato di prova per stroccone, colui del ricordo. La strutta bene! Si vuole anche un rinfermato. Retrocessi a febbraio! Complimenti! Ti taglio la lupa alla cadutista! Retrocessi a febbraio!